video misterioso ragazzi registrato da una telecamera di sorveglianza guardate un pochino ragazzi due amici stanno camminando improvvisamente guardate ragazzi io avevo pensato è arrivato spiderman cioè non lo so ragazzi è assurdo lo so però arriva qualcosa che freccia più veloce della luce qui è rallentato vediamo se riusciamo a beccarlo quindi sinceramente la mia curiosità è forte quindi andiamo a vedere se riesco a capire che cos'è perché ripeto comunque è difficile bene ecco qua fermiamo nel momento giusto non lo so ragazzi che diavolo è non lo so sembra pazzesco gli amici sono meravigliati dice secondo me hanno detto ma chi è arrivato spiderman guarda fanno segno anche col dito rivediamolo perché io non mi faccio capace quindi esco pazzo io guardate ragazzi non so che non so che forma abbia poi non lo so come sempre ragazzi lasciate il vostro commento e ditemi che che roba è ragazzi perché io non lo so al prossimo video ragazzi ma soprattutto al prossimo mistero e questo lo è sinceramente io non ne ho dire di cosa possa essere